Ciao a tutti che ci sono qui e benvenuti in questo nuovissimo vlog Allora, come ti seguo la mia pagina di facebook saprà Oggi sono a Londra Perché devo partecipare a un evento Microsoft A cui mi ha inviato EveryEye Quindi se passate per il canale di EveryEye che trovate in descrizione Iscrivetevi Allora, sono a Londra e non so se riuscirò a registrare qualcosa Perché non mi fanno registrare il gameplay Cioè in realtà dovevo andare per registrare, però mi hanno detto all'ultimo no, guarda, non si può più Vabbè Ehm Quindi vediamo Non so manco se potrò registrare qualche vlog Vediamo Intanto vi faccio l'unboxing della camera Del bravo youtuber Allora, il letto sembra stata comodo e come vedete l'ho già provato È comodo È comodo C'è tipo tutta la spiegazione del perché è comodo Fote se Ehm Qua c'è proprio il sistema audio in cui tu colleghi le cose Chissà dove cazzo è l'amplificatore Ci sarà qualche amplificatore da qualche parte, non lo so Qua dietro Qua si apre Buona paura No, qua si Questo albergo costa tipo La stanza più scema 150 euro a notte Cioè c'è 120 sterline Quindi più o meno 150 euro Forse qualcosa di più Qua c'è penso bollitore per fare il tè Da bravi Londinesi qua Il latte per Per il caffè Tutte stelle che non userò perché insomma me le fanno pagare Quindi quel cazzo Sì Le prese come potete immaginare sono quelle da Inglési Però per fortuna nel bagno Come faccio vedere che è abbastanza carino Senza bilet Ecco bene C'è qua la presa In cui potete scegliere 230 o 120 Io faccio 120 se no mi si fonde il coso A quanto c'è scritto La rete wifi è tipo fibra a bestia Quindi spero sia fibra a bestia sul serio Ah il bagno è questo Questa è la doccia Cioè non è male Questa è la che costa un botto Niente Ehm Basta Specchietto E di qua basta è finito Oh condizionatore Però non penso che lo userò Perché fa un freddo boia A saperlo non venivo con la giacchetta Venivo con il cappotto Tipo quello là Lasciarlo con Se è presente C'è quello Venivo con quello Giuro E qua la cosa essenziale Perché ho detto Vado a Londra per due giorni Boia Se non trovo un power converter Cioè il convertitore Cosa faccio? Ah mi sono preso dietro la Bellissima e simpaticissima Batteria portatile Su Amazon le trovate Anche tipo 16 euro Da 5000 Passa 1000 ampere Così tranquillamente Qua si accende sì Ecco Ecco L'ultimo tour Della roba La roba Certo Faccio vedere Qua Qua fuori Shhh Non dite a nessuno Da qualche roba Da qualche roba Non so ben dove sono Sono a Guarda Mi ha dato pure il VIP Passa Guarda un po' te Siamo a Westfield Siamo nella zona Di Westfield Cos'è? Un pranzo gratis? Speriamo Anche perché Non ho soldi Cioè Ho la carta La prepagata Da Paypal Però non so Dove andare a trovare Un ATM Quali chiamano E Nessi mi fa La conversione Euro sterlina Spero di sì Se l'ho soffottuto Devo andare a fare Le limogine A prestrada Che bello Bellissimo Quindi Per questo vlog È tutto E basta Ciao 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 Ciao